Ho avuto il grande piacere di conoscere un signore qui a Recarati, Benemino Gigli, però non è parente di così, di detto da però, è una cosa bella per me averlo conosciuto e quindi vorrei fare un paio di domande, dato che lei mi ha detto che ha conosciuto veramente il grande Benemino Gigli, a parte lei che è grande pure. Ci puoi dire un po' della sua esperienza da bambino? Sì sì sì, dunque io ero un ragazzino, mio padre proprio qua vicino, qua su c'è un giardino molto bello tra l'altro, un giorno, era in estate e mi presentò, mi presentò facendo un gesto di questo tipo, Benemino Gigli, ero piccolino, Benemino Gigli. Il tenore rimase un po' così, un po' sorpreso, poi mi diede la mano e si fece una grande risata dicendo a mio padre ma come ci hai pensato a mettere questo nome? E finì lì, quello è stato un momento della mia esperienza con il tenore. Poi invece l'ho rivisto nel mio quartiere, che si chiama il quartiere Mercato, in cui lui aveva finanziato un delegancio di bocce per giocare a bocce e veniva giù a giocare con gli abitanti del quartiere. Io ricordo un paio di ciabattini, un giovane che tra l'altro è morto recentemente, che era un fotografo, giocavano a carte oppure a bocce e il problema era questo, che quando lui vinceva pagava da bere a tutti, quando perdeva no, quindi lo facevano vincere. Che bello, quindi lui vinceva sempre. Sì, sì, ma era una persona buona, una persona cordiale con la gente, d'altronde lui era un uomo del popolo, non si faceva pregare se doveva fare un favore a qualcuno, ha fatto molto anche del bene, dei soldi, eccetera. Era un buon uomo, ecco, solo questa grande voce che, perlomeno, è il mio ricordo personale. Da bambino, quindi da innocente, quindi un ricordo puro. Sì, sì, io ricordo l'ultima volta che l'ho visto, però da lontano, non era in piazza Leopardi, penso che fosse nel 1956, poco prima che morisse, e cantò insieme alla figlia Pagliacci e la Cavalleria Rusticana, però la sua voce era già molto giù, sentiva che non stava bene. Ricordo che alla fine io mi appisolai un po' perché ero piccolo e stavo seduto con mio padre vicino, mia mamma. Ha conciliato il soldo? No, ma era perché per me era un po' lunga, era tardi, era sera e allora vicino a un bar io stavo... Quella forse è stata l'ultima sua persona? Penso che qui, alla zona, sicuro. Sì. Non so se poi a Roma cantò ancora, questo non lo so dire, insomma, e questa è la mia esperienza personale, però. È interessante come a Recanati tutti, tutti hanno in qualche modo, quelli di una certa età, conosciuto Gili, ma quelli che non lo conoscono è come se lo conoscessero pure. Quindi rimarrà un mito nella storia, non so, di Recanati, dell'Italia e del mondo. Sì, sì, ma ci teniamo tutti molto e soprattutto quella grande voce, la grande voce e poi... Però si faceva volere bene come persona. Sì, come persona si faceva volere bene, era un buono, un buono, una persona buona.